Buongiorno e benvenuti a tutti, non ho mantenuto la promessa di tagliarmi la barba ma giuro che oggi lo faccio. Beh, insomma, partiamo dalle cose importanti che sono successe oggi sui giornali e cioè lo scontro in Europa. Scontro in Europa, dice il Corriere della Sera, come sempre, inizio sempre col titolo del Corriere della Sera perché poi alla fine, Corriere della Repubblica, devo confessare che sono i primi giornali che leggo. Il Vaffa di Conte all'Europa è la sintesi che fa il Fatto Quotidiano e Milano Finanza, se mi permettete, in questo periodo è il giornale che, visto il suo formato piccolo, riesce in poche parole a dare la sintesi migliore dal mio punto di vista. Beh, Milano Finanza dice Conte rifiuta la Troica Europea, Repubblica titola anch'essa sull'Europa, la brutta Europa. E però io vi devo segnalare il record, il titolo più bello di tutti, che vi dà il senso di come quelli dell'avvenire, il giornale dei Vescovi, hanno sempre, stanno sempre sul pezzo. Perché io capisco tutto quanto, ma il titolo dell'avvenire di oggi sapete qual è? Rullo di tamburi! L'Italia convince la UE, vi giuro, l'Italia convince la UE. Toc toc! Siete così sicuri che l'Italia abbia convinto la UE? Perché bastava leggere tutti gli altri giornali, è vero che lo mettono tra virgolette, ma il titolo dell'avvenire è probabilmente, c'è qualcuno ieri che ha bevuto un po' troppo, non so se l'avvenire bevono, bevono, soltanto io mi bevo il nero di Troia, loro non so se bevono. Beh, comunque sia, andiamo nella ciccia. Devo dire che uno dei retroscena più interessanti è quello di Fubini. Fubini sul Corriere della Sera, beh, insomma ci dice una cosa fondamentale, e cioè gli schieramenti. Ieri quello che è successo è che Conte, insieme a Sanchez e ad alcuni paesi del fronte mediterraneo, ma non solo perché hanno conquistato l'Irlanda e hanno conquistato soprattutto Macron, pare, si siano opposti alla teoria di Austria, Olanda, Finlandia, Finlandia, Andrea è più grande della Finlandia, va bene, Andrea è più grande della Finlandia, ditemi un po' voi se può funzionare questo sistema. Beh, insomma, della Finlandia che volevano dare gli aiuti ai singoli paesi attraverso il famoso MES. Ve la faccio semplice, così non perdiamo tempo, perché nei giornali oggi è scritta un po' diffusa dalle altre parti, cosa succede? Se io chiedo gli aiuti al MES, è l'Italia che chiede degli aiuti e sostanzialmente si fa commissariare, cioè il MES dice io ti presto un miliardo, però devi fare questo, questo e quest'altro e io ti controllo se fai questo, questo e quest'altro e se non lo fai ti faccio un mazzo così. Questo è l'aiuto condizionale. Capisco che i paesi del nord non ci vogliono dare un aiuto perché non si fidano di noi, invece c'è italiani, francesi e spagnoli, dicono ma che siete scemi? Noi non ci facciamo commissariare perché qui non è un problema dell'Italia, non è l'Italia che ha fatto la fenomena, è un problema tutto europeo, quindi dobbiamo inventare uno strumento europeo, cioè un'obbligazione, cioè un prestito di tutta Europa ai paesi che hanno bisogno. Guarda caso, i paesi che hanno bisogno di più sono quelli del sud e quelli che hanno bisogno di meno sono quelli del nord. Oggi c'erano molti trafiletti sul fatto che la Svezia addirittura non chiuda nulla. Allora, quindi il punto fondamentale è che Conte non vuole usare il MES e quindi sta facendo molto bene e ha perfettamente ragione, ma la cosa incredibile, ed è quello che quelli che hanno un po' bevuto dell'avvenire trovano, è che si è fatto l'accordo. E sapete qual è l'accordo? L'accordo è che i cinque presidenti europei, già l'idea che l'Europa abbia cinque presidenti mi fa a me scapocciare, mi fa venire veramente il sangue al cervello, cinque presidenti. Cioè, il presidente della Commissione europea, Ursula, quella che parlava in tedesco, e poi i tedeschi invece non ci danno una mano. Brava a parlare in tedesco. La presidente della Commissione europea, il presidente del Consiglio europeo, il presidente del Consiglio UE, già voglio chiedere a tutti quanti voi, come a me stesso, qual è la differenza tra i due, il presidente del Parlamento europeo e il presidente della BCE devono fare un progetto da presentare nei prossimi giorni. Cioè, hanno deciso di non decidere e fanno decidere ai cinque presidenti che faranno cinque presidenti! Siamo in un mondo con cinque presidenti! E ancora pensiamo che l'Europa viva! Questa qua è la morte, oltre che dell'Europa, ovviamente purtroppo di un grande spazio economico come questo. La cosa bellissima che nota Fubini nel suo retroscena, e ve lo stampare moneta poi ne parliamo, nel suo retroscena, è che ieri in videoconferenza c'erano tutti, ma la Merkel era con il suo completino Boulou con una sua foto di due o tre anni fa e si sentiva solo la sua traduzione, la sua voce tradotta, perché la Merkel non era in videoconferenza. Lei era là, come la Dea Kali, che parlava, non perché io ce l'abbia con la Merkel, ma perché dava il senso, dice, ovviamente, come si chiama Fubini, di una sorta di avatar. Comunque, col cavolo che ci stanno dando una mano, col cavolo, l'Europa si è fatta i cavoli suoi. Mi ho un po' spiegato il sistema, l'unica cosa che voglio capire è quanto durerà. Nel frattempo, sul sole 24 ore, si capisce bene un'altra cosa, e cioè quello che sta facendo la Banca Centrale Europea. Vorrei che voi tutti quanti questa cosa la capiste bene, perché è fondamentale, oggi il sole lo spiega bene. La Banca Centrale Europea sta comprando i titoli di Stato di tutti i paesi europei, che sono l'euro ovviamente, noi abbiamo l'euro ancora, e quindi cosa succede? La banca, noi facciamo debito, emettiamo dei bot, e la Banca Centrale Europea se li compra. Quindi questo è un grandissimo aiuto, perché noi facciamo debito, e il debito se lo compra la Banca Centrale Europea, e quindi tiene giù lo spread, cioè gli interessi che noi dobbiamo elargire a quelli che si comprano il debito. Lo spread è arrivato a 158 ieri, cioè nel più grande casino mondiale, se c'è una cosa che è scesa, è lo spread, vi sembra? Quindi qui cosa sta succedendo? Che la BCE sta adottando la politica di Draghi di stampare moneta. Quando qualcuno di voi dice stampiamola di Ira, lo sta facendo, la BCE sta stampando moneta, e non è detto che questo sia una cosa buona, perché tu puoi stampare tutta la moneta che vuoi, ma se le fabbriche sono chiuse e la moneta non serve a nulla, cioè è basico, è elementare, un contadino lo capisce bene, tu puoi stampare quello che vuoi, ma in realtà c'è necessità di lavorare. Comunque è saltato, dice il sole 24 ore, il tetto del 33%, che era il limite di acquisti che la banca poteva fare per un solo paese, e questo ha aiutato molto l'Italia. Chiamate Draghi è la cosa a cui rispondono i giornali di centrodestra, in particolare Sallusti e Belpietro, e non solo, che dicono che è l'unico che potrà gestire questo grande casino europeo. E la dichiarazione e la lettera di Draghi che oggi ripubblica il giornale sul giornale, sarebbe un invito all'Europa ad essere più solidale, ma comunque chiamate Draghi, dicono Sallusti e Belpietro per fare il presidente del Consiglio. Beh, insomma, questo è il contesto generale, e poi dobbiamo arrivare nel contesto italiano, e lì c'è da mettersi le mani nei capelli, perché guardate non ce n'è una che funziona oggi in Italia, intanto sono aumentati i contagi, dici qualcuno sui giornali perché abbiamo fatto più tamponi in Lombardia, però purtroppo i morti sono sempre molto elevati, quindi questa strategia di contenimento in casa non sembra dare il, allora poi qualcuno potrà dire, non sono passati i giorni sufficienti, poi quando saranno passati 21 ci spiegheranno che ci sono i runner, poi quando ne sono passati 30 ci spiegheranno, beh, la sostanza è che ci si contagia anche a casa, e la sostanza drammatica è che noi abbiamo rotto le palle agli italiani, li abbiamo chiusi tutti quanti a casa e non ci siamo occupati di uccidere, non fisicamente ovviamente, ma sostanzialmente della burocrazia, 41 medici morti, 41 medici morti e operatori sanitari, c'è gente che lavora ancora nelle ambulanze senza mascherina o senza le protezioni necessarie, non siamo in grado in un paese come l'Italia di avere le mascherine, è una cosa da pazzi, e lo dice Italia oggi, in un'azienda normale una mascherina, la fanno in due o tre giorni, sapete qual è il problema? Le autorizzazioni della minchia burocratiche, cosa che ha anche messo oggi Ercuri da qualche parte, il super capo del commissario straordinario, che cosa ha detto? Probabilmente arriveranno le mascherine quando l'emergenza sarà finita, questa è la merda dell'Italia, un'Italia burocratica che è libera nel violare le nostre libertà, ma non riesce a violare le gare Consip, tu quando vedi la gara Consip la prendi, io ve lo dico da quanto? Da due settimane che sono fissato con le gare Consip, perché è ovvio che se tu fai le gare Consip non riuscirai a ottenere in un momento di emergenza nulla, l'ho urlato dal primo giorno, e non sono un fenomeno, ma dico ragazzi invece di pensare a togliere le libertà ai cittadini, toglietene pure quando sono positivi, ma occupatevi di difendere i medici, difendere i malati, aumentare gli ospedali, siamo qui a fare le gare Consip, va bene? Non basta, siamo, scusatemi, ma non solo, ma vi rendete conto? Oggi ho letto su tutti i giornali, l'ho fatto anche su un mio video, sapete cosa? Il quarto modello dell'autocertificazione, il quarto modello dell'autocertificazione bisognerebbe impiccare metaforicamente chi l'ha pensato, perché un modello dell'autocertificazione è un modello di un'Italia che ragiona solo con le leggi e con i commi che si smentiscono una dietro l'altra e presume che gli italiani stiano appresso a quelle robe, andiamo alla sostanza, al pratico, io voglio le mascherine, muoiono 41 sanitari, muoiono le persone che stanno sul fronte, chi se ne frega dei commi, degli articoli, dei combinati disposti della Consip, non vi viene da urlare una cosa di questo tipo? No, perché noi abbiamo da rispettare le procedure, i commissari, i consiglieri di Stato, basta! E poi, vado avanti, in realtà poi ci sono anche delle cose buone, perché bisogna essere onesti, l'ultimo decreto ha fatto una cosa che Ferrarella oggi ci racconta, ottima, perché ha depenalizzato, cioè i 110.000 denunciati fino al quarto decreto, beh, e rischiavano la galera, la fedina penale sporca, in realtà i 110.000 adesso potranno pagare soltanto una sanzione di amministrativa di 200 euro e cavarsela così, cosa giusta, sacrosanta, perché non sono degli assassini, non può esserci un procedimento penale per 100.000 persone, anche perché non sarebbe mai stato eseguito dall'amministrazione pubblica e quindi su questa cosa qui siamo andati avanti. Nel frattempo, ragazzi, stiamo tutti quanti attenti, perché, voglio dire, Burioni, che è uno bravo ovviamente, ma se tu dici una cosa che minimamente non gli piace in qualche sito, lui chiede di chiudere il sito. Se tu dici qualcosa che non piace al ministro, come si chiama degli interni, della Morgese, lei coraggiosamente, cosa fa? Denuncia il sindaco di Messina o chi per lui, perché è vilipendio e dice giustamente azzurra barbuto oggi sul Libero. Ragazzi, ma cavolo, e pensa un po' tu cosa avrebbe dovuto fare Salvini quando tutti quanti si permettevano di dirgli qualsiasi cosa. Io direi, cerchiamo di avere un po' di coraggio, ministro degli interni da Morgese, dalla forza e del ruolo che lei ha e dall'esperienza e dal fatto che lei è stata in quel ministro tanti tempi. Non usiamo la denuncia per il vilipendio, anche per la cosa più assurda e più brutta che possono fare, ma mi sembra una cosa fuori, diciamo, linea. Nel frattempo l'Ita dice qualcuno tra Arcuri e le regioni, perché anche questo succede in Italia, mentre muoiono i medici, muoiono gli italiani, siamo pieni di ospedali fino a qua. Cosa succede? Che Arcuri e regioni si litigano perché le regioni vorrebbero giustamente comprarsi da soli i respiratori. Ma perché se li vogliono comprare da soli? Perché vogliono evitare la burocrazia per quanto possibile, perché se passano da quello là non ottengono nulla. Nel frattempo oggi si scopre che De Luca ottiene i suoi respiratori. Allora mi viene un po' in mente che è una delucata quella che ho detto ieri, perché se ieri non ne aveva neanche uno e oggi già le ottiene, pensate che sia il pezzo del giornale o che sia una di quelle solite delucate delle sparate del De Luca, molto simpatico, ma in realtà un po' diciamo così, diciamo un po' fantasioso. Ecco, per non essere querelati per vilipendio. Toc toc! Sapete che cosa scrive oggi Travaglio? Oggi Travaglio riguarda un signore di 70 anni che sta in ospedale a combattere col coronavirus, del quale scrisse gli do due euro se rimane in Africa, invece che un euro che lui accetta per venire qua. E poi scrive il giorno dopo un paio di giorni, quando si ammala, era venuto qua per creare dei posti letto, invece ne ha dovuto occupare uno. Oggi lo definisce Berto Leso. Berto Leso! Come i bambini piccoli, quei bambini piccoli, ieri ve l'ho descritto come quello che è dall'ultimo calcio a quello che sta già morendo, che non è ovviamente Bertolaso, è un'idea metaforica. Oggi ti rendi conto che il suo gioco è il gioco di parole. Vi ricordate questi vostri amici a scuola, quando voi vi sbagliate a dire una parola che vi prendono in giro perché hai detto la parola sbagliata? Io li qualificavo come dei cretini, perché tutti possono sbagliare una parola e tu sei lì che inzighi e non vai nel principio generale di quello che ha detto quella persona, ma della parola che ha sbagliato. Ecco, questo è Travaglio, un ragazzino, un ragazzino come un isterichetta che oggi ci definisce un uomo che sta in ospedale Bertolaso e che si sarebbe preso il virus perché è sordo, quindi lo prende in giro, dice sì come è sordo, non sentiva, doveva mettere la faccia vicino agli altri e perciò si è preso il virus. Io dico va tutto bene, possiamo veramente scrivere qualsiasi cosa, io poi dico qualsiasi cosa, però veramente è una roba, come dice Clara, vergognosa. Non ha rispetto di niente se non di Di Maio e di Conte e su questo interviene oggi Feltri che fa un mazzo, lui a scansi, beh vabbè, che è una cosa clamorosa sul Libero, in cui gli dice qualsiasi cosa come può fare soltanto Vittorio Feltri. Due cose che vi segnalo ancora di economia, le fabbriche come la sanità, dice in un bel pezzo la Anna Danieli, Presidente della Confindustria di Udine, ma immagino che sia anche la signora della Danieli, perché tutto ciò che dice lei è, ragazzi guardate che le fabbriche sono come la sanità, se chiudiamo le fabbriche qua non avremo neanche una lira per poter pagare la sanità e i tagli che hanno fatto la sanità sono uguali a quelli che stiamo facendo alle fabbriche, è un grido di dolore di un imprenditore sul sole 24 ore. Tra l'altro vi segnalo che la cassa integrazione che vale per i dipendenti, sapete quanto costa, dice il sole 24 ore di oggi? 13 miliardi al mese, ma chi ce li dà 13 miliardi al mese? Straordinario invece il modello inglese in cui il ministro dello scacchiere decide di dare a tutti gli autonomi, ve lo dico, indipendentemente l'80% dei loro fatturati mensili dell'anno scorso e qua stiamo ancora col click day dei 600 euro. Il click day è esattamente come quello che vi dicevo prima, come l'autocertificazione e la sim e la non sim, ma ieri, credico, ve l'avevo detto, ha detto il presidente dell'Inps che avrebbe cambiato il sistema di PIN. Ieri moltissimi di voi mi hanno mandato ancora la richiesta dell'Inps di mandare via posta l'Inps, il PIN a casa, ma ovviamente quelli possono dire sui giornali quello che gli pare e poi se attacchi sei uno sciacallo. Però io voglio concludere con la notizia della giornata. La migliore amministrazione del mondo, quale? Quella romana. La città più pulita del mondo, qual è? Roma. La città più bella del mondo, qual è? Roma. La città più fica, meglio amministrata, col sindaco più intelligente, più bello e indiscutibile del mondo, qual è? Roma. La città dove ci sono meno animali in giro, qual è? Roma. La città più pulita del mondo, qual è? Roma. E perciò Roma, la città più importante del mondo, ha fatto il SUS. Vi giuro, il SUS. Sistema unico segnalamento. Se voi, voi trovate un assembramento in città, non di animali, non di topi, che lo trovate migliaia, non di animali, non di topi, chiamate il SUS. Se c'è un assembramento dovete segnalarlo al numero unico, anzi no, al sistema unico segnalamento che la raggia è inventato a Roma, perché il problema qua sono gli assembramenti. Ma mortacci vostra, direbbe il Marchese del Grillo, nella città peggio amministrata del mondo facciamo il sistema unico di segnalamento che mi dà il senso della DDR. Abbiamo veramente perso il senno. Cioè a Roma di che si occupano oggi del sistema segnalamento per quelli che si assembrano, non so, nei parchi, nelle città. Questi qua, questi cattivoni che vogliono uscire dagli arresti domiciliari saranno tutti segnalati da voi al SUS. Allora la mia richiesta è chiamatelo il SUS. Fate tutto quello che dovete, ma non per gli uomini che non girano, per i topi, per i gabbiani, per le bestie che girano per questa città. Qualcuno, migliaia di persone mi hanno mandato i messaggi sui topi che girano per queste città che sono completamente deserte. Mandate tutte le segnalazioni dei topi che fanno gli assembramenti in questa città. È l'unico modo per rompere questa ipocrisia alla DDR sulla quale siamo condannati. Ciao.